Biella è una delle quattro città creative italiane candidata 2019 all'UNESCO. Molte le qualità che sostengono l'aspirazione del capoluogo. Ma per l'attore Ezio Greggio biellese ne sarebbe stata dimenticata una, lo ricorda da Los Angeles dove si trova. Così indirizzo un appello al sindaco Claudio Corradino. Vorrei aggiungere Telebiella di Peppo Sacchi che affiancavo agli inizi della mia carriera e che è stata fulcro della nascita della libertà di espressione attraverso la liberalizzazione della tv privata. Noi di Telebiella, redazione di Telecupole, lo ringraziamo anche a nome delle centinaia di migliaia di famiglie che lavorano nell'indotto televisivo. Grazie Ezio per averlo ricordato.